Era l'anno di Woodstock. L'America si faceva crescere i capelli e viaggiava su moto da manubri lunghi come quelli dei bisonti. La musica lasciava i jukebox e si scatenava con ritmi mai sentiti prima. L'America bigotta e perbenista si scopriva debole e indifesa, sprofondata nella palude del Vietnam. Era la nuova America di Peter Fonda, un cognome che voleva dire cinema. L'attore che ieri è morto a Los Angeles, aveva 79 anni, da tempo era malato ai polmoni, figlio di una leggenda come Harry e fratello di Jane, la barricadera attrice iconica dei diritti civili e padre di Bridget che recitò anche con Bernardo Bertolucci e anche Peter aveva capito che il suo mestiere aveva anche un valore sociale. In quel 1969 che capovolgeva il mondo usciva Easy Rider, la pellicola di una generazione nuova. C'era dentro tutta la voglia di un paese che cercava di spostare i confini della nuova frontiera, quella evocata dai Kennedy che avevano pagato con un tributo di sangue quel sogno di un paese più giusto. Peter Fonda incarnava in quegli anni ideali ribelli. C'era nell'aria in quei tempi un'atmosfera rivoluzionaria. Hollywood era pronta per essere reinventata, la vecchia guardia aveva perso il contatto con il pubblico, soprattutto i giovani, disse in un'intervista di qualche anno fa. Ed ecco che arriviamo noi, giovani e pieni di idee che la vecchia generazione non capiva. Mentre i giovani ci capivano benissimo e non a caso hanno subito amato Easy Rider. E non eravamo soli, tanti film all'epoca andavano fuori dalle regole, film come Bonnie e Clyde per esempio, ma Easy Rider era speciale perché noi protagonisti facevamo davvero parte della generazione del sesso, droga e rock and roll. Ma Peter Fonda era anche un attore talentuoso che ha ottenuto meno riconoscimenti di quanti ne meritasse. Ha ricevuto il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico e la nomination all'Oscar al miglior attore per il film L'Oro di Ulisse del 1997. È stato inoltre nominato all'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per il film Easy Rider, da lui prodotto nel 1969. Poco per un attore come lui pagò la vendetta della Major e di un mondo che negli anni settanta cercò la restaurazione. E un rebelle come Peter dava fastidio. La sua moto di Easy Rider tormentava gli incubi dei benpensanti americani. Lui e Dennis Hopper, l'altro attore protagonista, erano diventati dei simboli da abbattere. Peter venne anche arrestato durante una delle manifestazioni degli anni sessanta. Era amico anche dei Beatles e di tutto quel mondo artistico e musicale. Ci sono anche ombre nella vita di questa star di una Hollywood così poco usuale, come l'uso di droghe e atteggiamenti ben al di là della trasgressione. Ma come per altri grandi talenti gli è bastato il successo planetario di Easy Rider per passare alla storia. Il road movie dove recitò anche un giovane Jack Nicholson. Vedere il film, il viaggio in moto da Los Angeles alla Louisiana, di questi motociclisti con la bandana sulla testa e un chopper sotto di loro, come un cavallo dei primi pionieri del West. C'erano gli echi dei romanzi di Jack Kerouac, l'andare su una strada dove non era importante la destinazione, ma solo il viaggio. L'America faceva i conti con una gioventù che non ne poteva più delle menzogne del potere, ma Easy Rider fu anche il punto più alto della rivolta, lo spartiacque dopo il quale il paese tornò a impaurirsi sotto la presidenza di Nixon. Ma Peter Fonda restò un'icona di un futuro possibile. Grazie per avermi ascoltato, salutiamo Peter Fonda per l'ultima volta e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!